La gara ne ha portato bene, quindi bisogna dirle che dovranno farlo più spesso, dato il risultato. Bella l'organizzazione, saluto tutti i quotidiani genitili che questi giorni ci hanno ospitato, ci hanno dato consiglio e tutto quanto. E niente, la gara è andata bene, la macchina ha risposto abbastanza bene, fino alla ricognizione abbiamo visto che la macchina ci stava e quindi abbiamo forzato sempre di più. Alla prima macchina abbiamo cercato di prenderci un tempo utile in modo da portarci a casa un tempo, quindi l'abbiamo dosato un pochino ed è poi in effetti quello che poi ci ha falso la vittoria, anche perché le altre due macchina li ho toccato Birilli, l'ha poverto quando, ma non capita, e anche gli altri allo stesso modo hanno fatto a 30 anni, è andata bene, contentissimo di questo risultato. E grazie a tutto molto di sempre. Allora, guarda qui, lo vedi Annino Magliora? Sì. A fianco, con l'altro con la cibotoviglia. Allora, aspetta che esco, lo porti, me lo puoi vedere. Lo porto qua, sì. Ah, la pietra, la pietra. La pietra, la pietra. La pietra, la pietra. Allora, andiamo.